Se fossi stato il nipote di Enea, figlio di sua figlia Ilia, la mia vita sarebbe stata più tranquilla. Avrei ereditato il regno di mio nonno, sarei stato il sovrano di Lavinio, signore di un popolo misto fra latini e troiani che lui, il grande eroe, venuta dall'altra parte del mare, aveva unificato. E forse non avrei neppure fondato una nuova città, mi sarei accontentato di quella che mi era toccata in eredità. In effetti nel mio destino era registrata anche questa storia, la storia di Romolo, nipote di Enea. Solo che assieme a questa, di storie su di me se ne contavano anche molte altre. Perché il fatum, come lo chiamano i romani, quel detto pronunziato da una bocca divina, non è una semplice parola, ma è un discorso che a sua volta ne contiene tanti altri, come un fiume di dicerie che si ramifica lungo i bracci del suo delta. I detti del fatum indirizzano la vita delle persone lungo percorsi molteplici. Uno solo poi se ne compie, ma gli altri restano comunque lì, abbozzati. Sono le vite non vissute, che prima o poi qualcuno, un indovino, un poeta, che poi sono spesso la stessa persona, riporta alla luce e racconta, a volte pretendendo perfino che sia quella la verità. Così io avrei potuto essere il figlio di Ilia e il nipote di Enea, come ho detto, ma anche la prole generata da una schiava che si unì a un fallo spuntato dal focolare in casa di un re che si chiamava Tarchezio. Anche questa storia della mia nascita, infatti, stava fra quelle registrate nel fatum. A volte mi chiedo come mi sarei sentito se le cose fossero andate davvero in questo modo. Tutti siamo figli di un fallo, lo so bene, ma non tutti hanno per padre un focolare. Purse alcuni affermano che quel misterioso fallo appartenesse al Dio che abitava in quell'angolo della casa, il lar familiare. Nel quel caso avrei avuto per padre un personaggio simpatico, allegro, che passa il suo tempo in cucina danzando con in mano una patera e una situla. Magari avrei potuto essere un tipo allegro anch'io, chissà, tutto il contrario di quel che sono. Il fatum, però, non ha voluto che la mia vita avesse inizio in un focolare, così come ne aveva voluto che nascessi nipote di Enea. Mi ha lasciato, sì, il principe troiano come antenato, ma fra me e lui si è ingegnato di scrivere un lungo lignaggio di sovrani che uno dopo l'altro hanno regnato su una città chiamata Alba Longa. L'aveva fondata Scanio, figlio di Enea e Lavinia, la principessa latina. In fondo a questa interminabile lista di sovrani, come se fosse stato un antico genealogista, il destino ha scritto infine i nomi di due fratelli, Numitore e Amulio. Il primo era il legittimo re di Alba, in quanto era il fratello maggiore. Era un sovrano buono e generoso che nel suo nome, Numitore, conteneva già quello del mio piissimo successore sul trono di Roma, Numa. Il fatum fa sempre le cose con lungimiranza. Amulio, invece, era così crudele che ben presto scacciò il fratello dal trono per prendersi lui il dominio della città. Il fato la sa davvero lunga quando progetta gli eventi. Remo e io eravamo ancora di là da venire, ma in casa mia i fratelli già cominciavano a entrare in conflitto fra loro. Un lontano popolo d'Oriente, i persiani, hanno inventato un gioco che spiegava già tutto. Su una scacchiera si scontrano due re e la partita finisce quando uno dei due viene eliminato. A quel momento si dice scacco matto, ma la pazzia non c'entra nulla. Shachmat, il re è morto. Ecco cosa dicono gli inventori di questo gioco nella loro antica lingua. Perché sanno bene che non possono esserci due re allo stesso tempo. Uno dei due deve morire. Sarebbe venuto il giorno in cui anche io e mio fratello saremmo dovuti cadere sotto il presagio degli scacchi. Numitore, il re di Alba, spodestata da Amulio, aveva una figlia, rea Silvia. Temendo che potesse dare una discendenza al fratello, Amulio la rinchiuse nel tempio delle Vestali, condannandola alla verginità perenne. Una notte però, Marte, lui in persona, o almeno così si disse, usò violenza a questa ragazza che era destinata a diventare la madre mia e di mio fratello Remo. Sempre che a stuprarla fosse stato davvero il dio della guerra e non lo stesso Amulio, lo zio di rea Silvia, che aveva indossato le armi per farle credere di essere Marte. Perfino questa stava fra le vicende contenute nei molti discorsi che il Fatum aveva formulato a proposito della mia nascita. Io però ho sempre creduto poco a questa storia. Stavolta l'indovino il poeta che la raccolse doveva essere distratto o poco esperto. Perché Amulio, violentando la figlia di suo fratello, gli avrebbe dato lui stesso una prole, proprio ciò che invece voleva evitare. Se così fosse stato comunque, se a unirsi con rea Silvia fosse stato il suo zio Amulio, io e mio fratello Remo saremmo venuti al mondo non solo frutto di uno stupro, ma per di più perpetrato su una sacerdotessa consacrata alla virginità e addirittura figli di un incesto, perché Amulio era pur sempre un parente di sangue di nostra madre. Noi eroi fondatori siamo condannati ad avere nascite irregolari, riprovevoli, a volte addirittura empie. Pur se l'immagine del mio pro zio Amulio mascherato da Marte mi è sempre sembrata talmente bizzarra che se ci penso mi viene da ridere, cosa che a rigore non rientra nel mio carattere. Sia come sia, è così, da una vestale violentata, che siamo venuti al mondo io e mio fratello. E la prima cosa che abbiamo visto non è stato il seno di nostra madre, ma le onde del tevere e il bordo della culla che ci portava verso la morte per acqua. Noi altri eroi fondatori non veniamo mai al mondo accolti dalla gioia dei parenti e dal calore di un abbraccio, come tutti gli altri bambini. Quando usciamo dal grembo materno la luce che ci accoglie è sempre libida e fosca. Gli uomini ci condannano subito a morte. La natura però, che dicono essere la vera e buona madre di tutti, protegge gli eroi fondatori. Così è sempre stato e così è stato anche per me e per mio fratello, perché quel giorno la corrente del fiume era debole e il cestino si arenò sotto un fico. I bambini cominciarono ambedue a piangere e avresti giurato che i neonati fossero coscienti di ciò che accadeva. I servi se ne tornarono a casa con le lacrime agli occhi. La culla ricurva, li sorregge sulla superficie dell'acqua. Quale immenso destino in balia di un misero legno. La culla, spinta nel fango, all'ombra di folti alberi va in secca, mentre l'acqua a poco a poco sta defluendo. C'era un albero in quel punto della riva. Ne rimangono i resti. Un fico che è chiamato ora ruminale e che un tempo fu il fico di Romolo. Una lupa da poco sgravata, fatto prodigioso, si avvicina ai due gemelli abbandonati. Chi crederebbe che questo animale feroce non facesse nulla di male ai due neonati? Ed è poco dire che non fece loro del male, perché essa li salvò. Furono nutriti da una lupa, loro che erano stati destinati a morire per mano di un consanguigno, uno zio. La lupa si ferma, accarezza i teneri pargoli con la coda e con la lingua lecca i corpi di entrambi. Non hanno paura. Avresti riconosciuto in loro i figli di Marte. I piccoli si attaccano alle mammelle e si nutrono grazie ad un latte che non era loro destinato. Dunque, il mondo selvaggio, quello dei fiumi, dei boschi e degli animali, a tal punto si era preoccupato di salvarci che una lupa, attratta dai nostri vagiti, accorse per porterci le sue mammelle e ci allattò, mentre anche un picchio vegliava su di noi. Da quel giorno, ogni volta che una lupa e un picchio si manifestano nello stesso luogo, questo costituisce un chiaro presagio che sta per accadere qualcosa di prodigioso. Quanto al fico della salvezza, fu chiamato Ruminalis e consacrato alla dea Rumina, la divinità della Rumis, la mammella, come dicono i romani, che dà latte ai neonati. Regione per cui non potrei neppure escludere che Remo e Dio fossimo stati allattati direttamente da un fico, sempre che si voglia dar retta a uno dei tanti discorsi impliciti o espliciti formulati dal fato. Così scampammo alla morte, odiati dagli uomini, ma amati dalle acque, dagli animali e dalle piante. Se qualcuno avesse voluto capire che eravamo destinati a compiere grandi imprese, ne avrebbe avuto la prova fin dall'inizio. Fuggita la lupa, sopraggiunse un pastore di nome Faustolo, che ci raccolse e ci portò nella capanna in cui viveva con sua moglie Larenzia. Fu lei, dopo la lupa, a nutrirci, anche se certo le virtù di quel latte ferino, il primo che ricevemmo, dovette lasciare un segno nella nostra indole, perché in verità né io né Remo siamo mai stati delle persone miti. Al contrario. Fra i discorsi del destino, comunque, ce ne sono davvero di tutti i tipi, dai più nobili ai più pettegoli. Altri dissero, infatti, che la lupa non era mai esistita, che il primo latte lo avevamo ricevuto dalla Renzia, la moglie di Faustolo, una donna che esercitava il mestiere di prostituta, e per questo tutti chiamavano la lupa. Parole di una vergine vestale, allattati da una prostituta. Perché no? Noi altri eroi fondatori siamo famosi per le imprevedibili peripezie che segnano la nostra nascita. Crescemmo fra i pastori, e quando penso a come eravamo, due ragazzi arditi, violenti, pronti a combattere, a rapinare, non stento a credere che a darci il primo latte fosse stata davvero una lupa, non una prostituta. Compivamo scorrerie e razzie in tutte le terre vicine. Non esitavamo neppure ad aggredire altre bande di ladri per sottrarre loro il bottino. Un giorno, però, decidemmo di partecipare alla festa dei lupi, i lupercali. Forse, a spingerci, fu il richiamo segreto del latte che avevamo bevuto da bambini. Latte di lupa, forse, come sempre, era il discorso del destino che continuava a manipolare le nostre vite. La festa si svolgeva sul Palatino, dove, sino dai tempi remoti, si era insediato un gruppo di arca di fuggiaschi, condotti fin lì da un nobile re, un re saggio, Evandro. Enea, il nostro capostipite, lo aveva amato e rispettato. Lo aveva avuto anche come alleato nella guerra contro i Rutuli. La madre di questo re, Carmenta, forse era addirittura una dea. Comunque, aveva fama di grande profetessa, come del resto diceva il suo stesso nome. Perché i romani chiamano Carmen il risponso degli oracoli. Carmenta non solo sapeva prevedere il futuro, ma soprattutto lo sapeva scrivere. Perché conosceva il segreto delle lettere dell'alfabeto, cosa che destava grande meraviglia tra gli abitanti del Lazio. E per la verità continua a stupire anche me, che a leggere e scrivere non ho mai imparato. Tutti i costumi che ho fondato, tutte le leggi che ho sancito, tutti i reduali che ho prescritto, una volta divenuto re di Roma, hanno avuto esclusivamente la forma di parole parlate, discorsi che pronunziavo perché fossero incisi non sulle tabelle degli scrivani, ma nella memoria dei miei sudditi. Anche se, al solito, fra le storie che il destino ha formulato attorno a me e a mio fratello, stava anche quella secondo cui da piccoli saremmo stati inviati a Gabi, una città del Lazio, per imparare non solo a leggere e scrivere, ma perfino l'arte della musica e quella delle buone maniere, come tutti i bravi bambini. Ma certo coloro che dettero valore a questa diceria non avevano idea di che tipo di ragazzi fossimo Remo e io. Leggere e scrivere non faceva per noi, figurarsi poi la musica e le buone maniere. Dunque, il figlio di Carmenta, Evandro, sul colle Palatino, aveva fondato i Lupercali, la festa dei lupi, consacrandoli a un dio della sua terra, Pan Liceo, il pan dei lupi. Anche la grotta presso cui la festa si svolgeva, chiamata Lupercale, aveva preso nome dai lupi. I romani, i miei discendenti, celebrano ancora l'antica cerimonia dei Lupercali, istituita dal nobile Evandro. Più che una festa, è una corsa rituale, effettuata da un gruppo di ragazzi nudi, che chiamano Luperci, i lupi, capeggiati da due giovani scelti fra le famiglie più nobili della città, prima di dare inizio alla corsa, sacrificano un cane e alcune capre. Poi il coltello insanguinato viene passato sulla fronte di due prescelti, che subito scoppiano a ridere. Perché il riso porta non solo allegria, ma soprattutto fecondità, come il sangue che cola dalle vittime. Dopo quella risata, tutti si lanciano, nudi, in una corsa forzennata, con in mano le strisce tratte dalla pelle delle capre sgozzate, e con quelle percuotono le persone che incontrano, soprattutto le donne, il cui grembo, si dice, dopo aver ricevuto quelle percosse, sarà più fertile. Remo e io eravamo forti, coraggiosi, e anche noi ci gettammo a rotta di collo giù per i boschi di quel mondo selvaggio che fin dalla nostra nascita ci aveva manifestato il suo favore. Gli altri luperci ci circondavano, gridando, ma ignoravano che sapessimo volare. Li superammo d'un balzo, e di seguito, una dopo l'altra, scavalcammo pietre, forre, pozze che splendevano improvvise fra i sassi, siepi, rovaie, sempre volando, sempre neppure sfiorarle. Bastò qualche minuto perché gli altri ci perdessero di vista, e noi, voltandoci, non vedemmo più loro, nemmeno i giovani, che avevano la fama di correre più veloci. Credo che a un certo punto della discesa il cielo si fosse aperto in un arcobaleno, ma solo per richiudersi subito. Negli anni seguenti mi è capitato spesso di sognare le pietre, le forre, le pozze, che splendevano improvvise fra i sassi, le siepi, le rovaie che trascorrevano veloci sotto il nostro volo, senza che le sfiorassimo neppure. Finché ci ritrovammo ai piedi della collina, e lì ci fermammo. Un gruppo di banditi, però, a cui in passato avevamo rubato la preda, partecipava anch'esso alla festa. Ci riconobbe da lontano, e scivolando con destrezza fra le forre, infine ci assalì. Io mi difesi, ma Remo fu catturato e portato ad Alba in catene, accusato di aver devastato i campi di Numitore. Per nostra fortuna intervenne Faustolo, il pastore che ci aveva allevato. Corsi ad avvertirmi, ed io di notte, con alcuni uomini fidati, riuscì a liberare Remo, e con la testimonianza di Faustolo convincemo Numitore che Remo e io eravamo i suoi nipoti. Amulio fu ucciso, secondo il presagio degli scacchi d'Oriente. Il trono fu restituito al suo legittimo possessore. Ad Alba eravamo diventati degli eroi. Nostra madre, però, la bestale. Non riuscì mai a vederla. Era stata cancellata dai discorsi del destino. Forse non era stata mai neppure nominata. Alla corte di Numitore vivevamo inquieti. Alba non ci bastava. Volevamo una città tutta per noi. E per fondarne una nuova raccogliemo. Una banda di ladri, di assassini, di esiliati, di schiavi fuggiaschi. Gente ardita e crudele come noi. Come noi, disposta a qualunque impresa. Perché le nuove città, i nuovi popoli, i mondi nuovi, nascono tutti a questo modo. Voi dovreste saperlo meglio di me, che tanti altri ne avete visti nascere dopo la fondazione di Roma. L'inaudito, l'inatteso, l'impossibile, può essere creato solo da coloro che il mondo di prima ha rifiutato o condannato. Come del resto era avvenuto sin dall'inizio a me e a mio fratello. I mondi vecchi ignorano che, per la pigrizia di restare attaccati alle proprie radici, si gioca nel futuro. Scegliamo una terra vicina al fiume, ricca di colli, e in una di queste piccole valli fondammo l'asilo in cui raccogliere gli uomini che si univano a noi. Per dare vita a una nuova città, però, non basta costruire qualche muro o qualche capanna. La fondazione è, prima di tutto, un atto religioso. Per questo occorre scegliere un nome da destinare alla nuova città. E non è una scelta facile, perché quel nome, in tutti i secoli a venire, ne avrebbe segnato la sorte ed il destino. Nel nostro caso fu necessario decidere chi fra noi due, Remo e io, avrebbe avuto questo privilegio. Eravamo gemelli, pari, uguali in tutto e per tutto. E si sa che i gemelli, creature con una sola faccia e una sola identità, prima o poi finiscono per entrare in conflitto fra loro. Pretendono di essere uno, ma sono pur sempre due. E ci sono momenti in cui debbono scendersi e l'uno o l'altro è obbligato a farsi da parte. Quel momento era venuto anche per noi. Il compito di decidere chi avrebbe dato il proprio nome alla città, però, dovevamo lasciare agli dèi che avevano il possesso di quei colli. Perché non vi è luogo sulla faccia della terra, fertile piana, accumulo di sterpi, landa paludosa, uvetta inaccessibile, che non sia posseduta da qualche divinità. I dèi sono ovunque. Di tutto sono signori e padroni. Ecco perché debbano essere consultati al momento di qualsiasi decisione, specie se riguarda le terre che hanno in tutela. Per conoscere il loro volere dovevamo rivolgerci agli uccelli. Sono loro, le creature dell'aria, vicini al mondo di sopra, ma partecipi anche di quello di sotto, che hanno il privilegio di recare agli umani i messaggi che giungono dagli dèi. A volte gli immortali se ne servono come se fossero strumenti sonori. E' il canto degli uccelli che trasmette agli uomini le loro voci divine. Altre volte invece, attraverso il volo degli uccelli, gli dèi si divertono a disegnare nel cielo la traccia del proprio volere, come se ali e zampe formassero i ghirigori di una scrittura misteriosa. Per questo, quando si chiede agli uccelli di trasmettere il risponso di un Dio, è necessario che nel cielo sia ben definito lo spazio in cui si attende che le lettere divine prendano forma. I confini del templum celeste, così lo chiamiamo, vengono tracciati solo con gli occhi della mente. Sono quadranti immaginari, eppure certissimi, mentre parole asciutte e scandite, prescritte dall'antico rituale e pronunziate solennemente da chi chiede gli auspici, sanciscono infallibilmente i limiti del templum. Di quest'arte, l'arte augurale, i romani dicono che fu io l'inventore, perché fu io a introdurla, quando fu necessario chiedere agli dèi che avrebbe dato il nome alla città che stavamo per fondare. L'augure, che ha ricevuto questa carica sacerdotale, entra nel sacro recinto. In piedi, col capo velato, tiene nella mano destra un bastoncino ricurvo, senza nodi. Lo chiamano lituo. Quindi, rivolto lo sguardo alla città e alla campagna, e invocati gli dèi, delimita le zone del cielo da oriente ad occidente, e proclama fauste, quelle verso mezzogiorno, in fauste, quelle verso settentrione. Fissa nella propria mente il punto più lontano cui può spingersi lo sguardo. Allora, passato il lituo nella mano sinistra, così prega, Giove Padre, se è destino che quanto io mi accingo a fare si compia, daccene sicuri segni entro i limiti che io ho tracciato. Enumera poi gli auspici che desidera gli siano inviati. Dopo averli ricevuti, dichiara che Giove ha dato il suo augurio e discende dal recinto augurale. Quel giorno, dunque, ciascuno di noi due aveva tracciato i confini del proprio templum. Le possenti parole della formula erano state pronunziate. Non restava che attendere l'augurio celeste. Remo osservava il cielo dall'Aventino, io dal colle Palatino. Con grande ardore impegnandosi, e soprattutto bramosi del regno, insieme i fratelli compiono l'auspicio e l'augurio. Remo si consacra l'auspicio e da solo attende un uccello favorevole. Ma Romolo, splendido, osserva sull'alto Palatino, attende la stirpe degli antivolanti. Contendevano sul nome della città, se dovesse chiamarsi Roma o Remora. Tutti erano ansiosi di sapere chi dei due sarebbe stato il sovrano. Attendono come quando il console sta per dare il segnale e tutti fissano avidamente le aperture dei cancelli e il momento in cui lasceranno uscire i carri dai battenti dipinti. E la corsa avrà finalmente inizio. Così il popolo attendeva e sui visi si disegnava il timore. Chi dei due avrebbe vinto la gara per il grande regno? Intanto il sole lucente si ritira nella profondità della notte. Poi, d'un balzo, la luce abbagliante apparve con i suoi raggi. In quello stesso momento, lontano, dall'alto e da sinistra, meraviglioso un uccello di buon auspicio volò. Intanto il sole d'oro sorge. Scendono dal cielo dodici corpi sacri di uccelli. Si posano su luoghi di buon auspicio e fausti. Romolo, a questo punto, è certo che a lui era stata data la preferenza e che grazie all'auspicio il trono e le terre del regno gli venivano assicurati. In realtà fu lui, mio fratello, che vide per primo gli avvoltoi e gridò al trionfo. Ma erano sei. Subito dopo, altri uccelli attraversarono anche il mio templum, ed erano dodici. Sia io che il remo rivendicamo il primato. Il tempo entrò in conflitto con il numero, perché al remo gli uccelli erano apparsi per primi, ma io ne avevo visti di più. Il numero ebbe la meglio sul tempo. Come se inviando al mio fratello solo sei avvoltoi, la metà dei miei dodici, la divinità avesse voluto sancire la sua insufficienza, la sua inferiorità rispetto a me. Di questo di lì a poco lui avrebbe voluto vendicarsi. Così come avevano decretato gli dèi, dunque la città si sarebbe chiamata Roma, non Remora. E da quel momento, al numero dodici, come quello degli avvoltoi che avevano scritto nel cielo la mia vittoria, gli abitanti della mia città avrebbero sempre attribuito il valore della compiutezza, della stabilità, della perfezione. Dodici. Lo si sarebbe visto il giorno in cui i miei concittadini, stanchi di essere governati da norme non scritte, esclusivo possesso della memoria dei pontifici, si sarebbero finalmente decisi a darsi un codice di leggi scritte. Anche le tavole su cui le incisero furono dodici. E quelle furono le leggi più sagge e più giuste che fossero mai state dettate. Avevo vinto contro mio fratello, lo avevano deciso gli dèi. Così, subito dopo aver consultato la scrittura degli uccelli, mi accinsi a compiere la cerimonia della fondazione. Per prima cosa dovevo marcare la terra con i segni indelebili della futura città. Dissi ai miei uomini di scavare una fossa circolare e la chiamai mundus, proprio come se stessimo creando un nuovo mondo, il nostro. Poi feci colmare la fossa con primizie offerte agli dèi, mentre i miei compagni, i ladri, gli assassini, i fuggiaschi che avevo raccolto nell'asilo, dentro quella stessa fossa gettavano ciascuno una zolla della terra da cui provenivano e che si erano portati dietro nei loro fardelli, partendo per l'esilio. Infine, rimescolammo quelle zolle straniere con la terra del Lazio e così di molte terre, quelle provenienti dalla patria di ciascuno, ne facemmo una sola, proprio come una sola gente sarebbe nata da quella mescolanza di uomini che mi circondavano. Gli Ateniesi, che sono un popolo orgoglioso ma anche arrogante, pretendono di essere nati direttamente dal suolo che calpestano. La chiamano autochtonia, una parola che vuol dire essere proprio di quella terra. In Attica, o almeno così dicono, è la terra che ha creato gli uomini che vi abitano e solo coloro che da quella terra discendono hanno il diritto di risiedervi. Fondando Roma, noi facemmo esattamente il contrario. Rimescolando le zorre, le zolle che avevamo gettato nel mundus, siamo stati noi, gli uomini, che abbiamo creato la nostra terra. Non è stata la terra a creare noi. Del resto solo topi, serpi, ragni o altri spregevoli animali nascono dalla terra. Sono un eroe fondatore e sapevo fin dal principio quale direzione avrei voluto imprimere alla mia città perché fosse diversa da tutte le altre. I suoi cittadini sarebbero per sempre dovuti essere una mescolanza d'uomini che viveva sul suolo di una terra a sua volta mescolata. Infine chiesi che mi fosse portato un aratro, trainato da un bue e da una giovenca, e premendo il vomere sul terreno cominciai a tracciare un cerchio che aveva per centro il mundus, il mondo, quella fossa che avevamo scavato. Il solco che andavo man mano scavando era sacro, primigenius lo chiamavamo, perché era il seme e l'origine di ogni futuro confine della città. Nessuno avrebbe mai potuto attraversarlo impunemente. Così decretai. Mio fratello però la pensava in un altro modo. Non voleva rassegnarsi al sei dei suoi avvoltoi. Avrebbe voluto essere lui il dodici. Per questo scavalcò il solco in Miderise. E io lo uccisi. Era inevitabile che accadesse. Eravamo doppi, gemelli, due creature identiche, una di fronte all'altra. Io però ero la persona reale, lui il mio riflesso. Quando decisi di allontanarmi dallo specchio, l'immagine di Remo si dileguò con me. Lo so ombra però, nei secoli futuri, restò ad aggirarsi fra le mura della città. Il fratricidio venne impresso nell'indole dei miei discendenti, che avrebbero continuato a uccidersi fra loro, fratelli non più di sangue, ma di città. Il fato guarda sempre lontano. Quando progetta un evento, ha già in mente, una per una, tutte le sue conseguenze. Non ho mai amato nessuno, tantomeno mio fratello. Non ho mai amato neppure una donna. In questo, e per la verità non solo in questo, sono molto diverso dal mio antenato, Enea, che aveva amato la moglie uccisa dei Greci, aveva amato la regina di Cartagine, aveva detto di amare, anche se probabilmente non era vero, la principessa latina con cui aveva dato inizio alla nostra stirpe. Sono un eroe fondatore, e quelli come me non hanno né il tempo né il desiderio di amare. Così, quando Roma fu finalmente scinta di mura e popolata di uomini, io cominciai a pensare alle donne, ma non certo per amarne una. Al mio tempo le cose non andavano come nelle poesie erotiche, non si cercavano innamorate, ma spose, per dare ai cittadini la speranza di una prole. A questo scopo inviai ambasceria ai popoli vicini, per chiedere le loro figlie e sorelle come mogli per i miei uomini, ma tutti mi risposero con arroganza. Perché mai avrebbero dovuto dare spose a noi romani, dicevano che non avremmo mai potuto restituire il favore. A Roma non c'erano donne da dare in cambio a quelle ricevute, eravamo un popolo di soli maschi. E anzi, come alcuni replicarono con disprezzo, perché non aprite un asilo anche per le femmine? Così sarete pari. Sono stato allattato da una lupa, e non sono solo capace di ferocia, ma anche di astuzia. Sparsi la voce che nella valle tra il Palatino e l'Aventino avevamo scoperto l'ara sepolta di un antico dio, Conso, e che volevamo celebrare il sorgere di questo nuovo culto con una grande festa. A questo scopo invitammo a Roma molte genti vicine, in particolare i Sabini, vennero tutti ammirando e stupendo per la bellezza della città che avevamo costruito in così poco tempo, e portarono con sé le loro mogli, figlie e sorelle. Poi sapete bene che cosa accadde. A un mio segnale i giovani romani si gettarono sulle donne degli ospiti, spargendo fuga e terrore fra i loro uomini. Forse però non sapete con quale cura, con quale astuzia, gli avevo progettato il ratto. Anche gli dèi dovevano essere coinvolti nel mio stratagemma, anche i luoghi che avevo scelto per attuarlo dovevano collaborare alla sua riuscita. A sostenermi fu prima di tutti il nuovo Dio, Conso, Dio del Consilium, che mi aveva suggerito il piano del rapimento, e dalla sua ara, Conso, il Dio del Consilium, vegliava sulla riuscita del Consiglio che aveva dato alla mia mente. Poi coinvolsi Murcia, una dea che come Conso aveva un tempietto eretto in quei paraggi. Murcia è la divinità che rende gli uomini murcidi, inerti, incapaci di agire. Voi direste depressi. E quindi avrebbe impedito ai parenti del rapite di reagire con efficacia all'ingiuria subita. Infine, mi preoccupai che Venere Verticordia, anche lei una dea, onorata in quegli stessi luoghi, collaborasse al completamento della mia impresa. L'ufficio di questa divinità consiste nel riportare la pace fra moglie e marito. E avevo previsto che Verticordia, colei che rovescia i cuori, conformemente al suo nome, sarebbe stata infine capace di volgere il cuore delle rapite dallo sdegno e dalla disperazione all'affetto per i nuovi mariti. Nella confusione del ratto, anch'io scelsi per me una donna fra le sabine. Si chiamava Erzilia, ed era l'unica che avesse già un marito. Non la scelsi certo guidata dall'amore, io non ho mai amato nessuno, ma solo perché immaginavo che, in quanto più esperta delle altre donne e resa saggia dall'aver già sperimentato il matrimonio, mi avrebbe aiutata a ristabilire la pace fra noi e i popoli offesi. Ci volle del tempo per raggiungere questo scopo e dovemmo combattere a lungo con l'una o con l'altra gente, ma in guerra noi romani non abbiamo mai temuto rivali. Forse è vero che ho Marte per padre. Combattemmo e vincemmo sempre, finché Erzilia, assieme alle altre spose, si interpose fra noi e i nostri nemici e la pace fu fatta. I Sabini vennero a vivere con noi a Roma e divenimmo un unico popolo. Tito Tazio, il sovrano dei Sabini, divise il regno con me. I cittadini di Roma presero il nome di Cuirites, in onore della città di Cures, da cui i Sabini provenivano. Era venuto il momento di dare vita alle grandi istituzioni che avrebbero governato la città, il Senato, le tribù, le curie, i comizi. Sono un eroe fondatore e quelli come me non solo danno vita a nuove città, ma creano nuove leggi e soprattutto nuovi costumi, nuovi mores, diciamo noi romani, che per noi, benché non siano scritti da nessuna parte, sono quasi più vincolanti delle leggi. Così, dopo il ratto, mi preoccupai di prescrivere i rituali che in futuro avrebbero regolato i matrimoni, adottando, per rispetto alle spose, i costumi noziali dei Sabini, in primo luogo la comunione dell'acqua e del fuoco. D'ora in avanti non ci sarebbero più stati i rapimenti di donne, ma nozze giuste, giuste nupsie, celebrate col consenso delle famiglie e dei due sposi e secondo regole che non potevano essere trasgredite. Stabilì poi quali sarebbero stati i privilegi riservati alle mogli legittime, le matrone, imposi che fossero esentati da tutti i servizi domestici lasciati alle schiave, perché si dedicassero unicamente alla filatura. Inoltre, decretai che alle matrone si dovesse cedere il passo per strada, che in loro presenza non si dovessero mai pronunziare parole indecenti e soprattutto vietai che qualsiasi uomo si mostrasse loro nudo. Che avesse avuto l'ardire di farlo sarebbe stato denunciato ai tribunali che perseguono gli omicidi. Infine concessi alle spose legittime che i propri figli portassero al collo la bulla aurea, un medaglione che indicava l'origine libera dei ragazzi, e indossassero la toga pretexta, una toga urlata di purpura, come quella che portavano i senatori. Dalla violenza del primo ratto feci dunque nascere la civiltà del matrimonio e quella della famiglia. Purse nei nostri rituali rimasero indelebilmente impresse le tracce dell'origine violenta che aveva segnato le nozze romane. Anche fra i miei discendenti infatti quando una fangiulla va sposa non si dice che va sposa, si dice che viene rapita dal grembo di sua madre o da quello di una sua parente prossima. Mentre per acconciarle i capelli in vista della cerimonia dividendoli in sei ciuffi non si usa un pettine ma una punta di lancia. Le spose romane non hanno dimenticato e non potranno mai dimenticare la loro condizione di Sabine rapite. La verità è che la città che ho creato appartiene ai padri non alle madri. Sono i padri che hanno il diritto di vita e di morte sui figli e dal loro nome, Patres, che ho tratto quello che disegna coloro che governano la città, i Patres, i senatori. E sempre dal nome del padre deriva anche quello che portano le famiglie nobili di Roma, i Patrici. Molti continuano a stupirsi del fatto che fra le mie leggi non ve ne sia nessuna che punisca il patricidio. Ma questo è avvenuto solo perché uccidere il proprio padre da me era considerato un crimine così assurdo, così impossibile, da essere addirittura indicibile. sancire una legge che lo puniva avrebbe significato dargli un nome come se potesse esistere. Sono sempre stati i padri, i maschi, a cui pensavo quando davo leggi alla mia città. E se anche ho voluto tutelare i diritti e la dignità delle matrone, ho sempre avuto in mente il predominio degli uomini sulle donne. Così imposi che nessuna moglie potesse abbandonare suo marito, mentre il marito potrebbe ripudiare la moglie qualora avesse tentato di avvelenare i figli, di sostituire le chiavi di casa o avesse commesso adulterio. Dopo il ratto avevamo introdotto le donne nella città degli uomini. Erano altrettante nuore, una stirpe sconosciuta a Roma prima di quel momento. E non me ne fidai. Così, assieme a Tito Tazio, il mio collega nel regno, promulcai una legge per punire le nuore che avessero fatto violenza ai suoceri. Come potevo sapere che le nuove spose sarebbero state sempre ben disposte verso i genitori del marito nella cui casa andavano ad abitare. Per cui stabilì che qualora uno di loro avesse osato colpirli e se la vittima avesse gridato pubblicamente al soccorso, Costei sarebbe stata dichiarata sacra agli dei parentes, gli antenati divinizzati della famiglia. Dopo di ciò, chiunque avesse voluto avrebbe potuto ucciderla senza commettere omicidio. Stabilì poi che ogni famiglia allevasse tutti i figli maschi e delle femmine solo la primogenita. Toccava al re, cioè a me, dare il buon esempio e lo detti perché ebbi una sola figlia, o meglio, allevai una sola figlia e la chiamai prima, come si doveva. Era una norma crudele quella che avevo dettato perché non specificai quale sorte sarebbe toccata alle figlie diverse dalla primogenita. I padri avrebbero forse dovuto ucciderle, esporle nella natura selvaggia come era toccata a me e a mio fratello, venderle schiave. Sono un eroe fondatore e a quelli come me non si può chiedere né la pietà né il sentimento, solo l'astuzia della ragione di stato. sapevo che riducendo il numero delle femmine a favore dei maschi avrei necessariamente ridotto anche il numero delle spose disponibili per i giovani romani. Per quale motivo avrei preso una decisione in apparenza così assurda? Perché in questo modo molti dei nostri giovani sarebbero stati costretti a cercarsi una sposa fuori dalla città, presso altre genti. sarei così riuscito nell'intento di moltiplicare le affinità e le parentele dei romani con popoli diversi dal nostro allargando passo dopo passo la cerchia del nostro potere e della nostra influenza sulle genti vicine proprio come era avvenuta quando avevamo contratto matrimonico le Sabine rapendole e la loro gente una volta legatasi a noi con i vincoli della parentela era addirittura venuta a ingrossare la popolazione della città non mi meraviglio però che nel corso del tempo questa legge sia stata abbandonata dai miei discendenti e abbiano cominciato ad allevare tutte le figlie femmine e non solo la primogenita alla fine del mio regno Roma era una città solida e sicura avevamo vinto tutte le guerre che i popoli vicini ci avevano intentato per impedire che continuassimo a crescere e quelle che a nostra volta avevamo intentato contro di loro per sottometterli adesso il mio popolo si aspettava qualcosa di grandioso di straordinario degno di colui che si diceva fosse figlio di Marte sarei dovuto diventare un dio e a Roma perché questo avvenisse era necessario scomparire come già era avvenuto al nostro capostipite Enea così sparì dal cospetto dei miei uomini in un giorno di tempesta a Campo Marzio presso la palude della Capra mentre tenevo assemblea la pioggia flagellava la terra e le nubi oscuravano il cielo cancellando dalla vista di tutti il trono su cui sedevo così quando il temporale si fu placato di me non restava più alcuna traccia e il mio popolo smarrito silenzioso iniziò a invocarmi con le formule rituali O Romule Romule dive qualem te patrie custodem digenuerunt O pater O genitor O sangue disoriundum salve dive Deonatus rex parensque urbis romane pacem dona nobis uti volens propitius tuam semper sospites progeniem O Romulo Romulo Dio con la tua nascita quale custode gli dèi hanno dato alla patria O padre O genitore O sangue generato dagli dèi salve Dio nato da un Dio re e padre della città di Roma donaci la pace e benefico e propizio proteggi la stirpe che è nata da te così mi invocavano ma com'è naturale però soprattutto per sancire la mia fide il fato aveva in serbo una pluralità di discorsi si disse infatti che io non fossi scomparso nella tempesta celeste ma le acque della palude della capra mi avessero inghiottito mentre nuotavo o peggio ancora che i senatori col favore della tenebra mi avessero ucciso e fatto a pezzi nascondendo i brandelli del mio corpo tra le pieghe delle loro toghe se così fosse stato la mia crudeltà ferina quella che mi veniva dal latte della lupa sarebbe stata ripagata con la stessa moneta ma il fato aveva altri piani per quanto riguardava la memoria che di me si sarebbe sparsa fra i romani ben presto inviò a Roma un suo messaggero incaricato di rassicurare il popolo comunicandogli che ero davvero divenuto un dio Marte il padre di Romolo dopo aver visto compiute le nuova mura di Roma e tante guerre vinte per mano di suo figlio disse Giove la potenza di Roma ormai si è affermata la città non ha più bisogno del sostegno del mio discendente restituisci il figlio a suo padre anche se uno dei due è scomparso resta l'altro che vale per sé e perremo tu o Giove mi avete detto uno solo dei due potrai portare nell'azzurro del cielo dunque sia la promessa di Giove esaudita Giove acconsentì e ad un cenno del suo capo ambedue i poli tremarono e Atlante avvertì tutto il peso del cielo c'è una località che gli antichi chiamavano Palù de Capria tu eri per caso da quelle parti Romolo per amministrare la giustizia al tuo popolo quando il sole improvvisamente scomparve irruppero le nubi il cielo si coprì scoppiò un terribile temporale e la pioggia batteva da una parte rimbombavano i tuoni dall'altra il cielo era solcato dai fulmini tutti fuggirono mentre il re saliva al cielo condotto dai cavalli del padre il popolo celebra il lutto si sospetta a torto dei senatori che lo avrebbero ucciso questo sospetto ti sarebbe forse affermato a Giulio Proculo venendo da Alba Longa al chiaro di luna e senza fiaccola non avesse visto all'improvviso tremare la siepe sul lato sinistro fece un passo indietro e si sentì rizzare i capelli sul capo gli apparve Romolo in mezzo alla via bello indossava la trabea era più alto di quanto non fosse stato e gli rivolse queste parole di ai queriti di non piangere di non offendere la mia divinità con le loro lacrime portino incenso ed offrano sacrifici devoti al mio dio Quirino e coltivino l'arte militare e le pratiche che hanno appreso dai loro padri dopo aver impartito questi ordini Romolo scomparve dissolvendosi nella leggerezza dell'aria Giulio Proculo convoca il popolo e riferisce gli ordini che aveva ricevuto venne costruito un tempio in onore del dio Quirino e anche un colle ricevette il suo nome il Quirinale e furono stabiliti giorni fissi per le onoranze dei padri non so come dirlo ma forse nel tempo Erzilia benché la vissi a suo tempo rapita al suo marito Sabino aveva imparato ad amarmi chissà o forse era stato solo il godimento che le dava il prestigio di essere regina la donna più saggia più rispettata della città era lei che si rivolgevano alle spose romane per chiedere consiglio aiuto anche solo comprensione quando la loro vita nella città dei padri si faceva più dura adesso però io non ce l'ho più e d'ora in avanti che ruolo avrebbe avuto lei in una Roma senza Romolo senza neppure un re quanto a lungo avrebbe potuto continuare a vivere in una reggia vuota in cui ben presto si sarebbero fatti avanti dei nuovi inquilini che certo non avrebbero gradito la sua permanenza sarebbe potuta tornare dalla sua gente Sabina finire i suoi giorni con delle vecchie cognate a raccontare di quando era stata la regina di Roma probabilmente è così che andò davvero ai romani però sarebbe potuta piacere una fine del genere fra le comari a filare a raccontare per colei che era stata la sposa di Romolo io ero diventato un dio lei non poteva finire la sua vita come una vedova qualunque la moglie Ersilia piangeva Romolo per morto allorché la regina Giunone comanda Iride di discendere lungo il suo arco per recarsi dalla vedova e riferirle questo messaggio o matrona vanto straordinario della gente latina e di quella sabina degnissima consorte prima di un eroe si grande ora di Quirino poni fine al tuo pianto e se hai il desiderio di vedere il tuo sposo recati dietro di me nel bosco che si stende sul colle di Quirino che che ombreggia il tempio del re romano Iride ubbidisce e scivolata lungo il suo arco colorato parla a Ersilia secondo gli ordini avuti quella timorosa in volto alzando a malapena gli occhi o dea perché è chiaro che sei una dea anche se a me non è possibile dire quale tu sia guidami guidami disse e mostrami il volto di mio marito che se ora i fatti mi concederanno di poterlo vedere una sola volta ammetterò di aver toccato il cielo senza indugio insieme alla vergine figlia di Taumante Iride si reca sul colle di Romolo lì una stella staccatasi dalla volta celeste cade in terra ed Ersilia con le chiome incendiate dal suo fulgore scomparve nell'aria insieme alla stella il fondatore della città di Roma l'accoglie tra le braccia a lei ben note e insieme al corpo le muta l'antico l'antico nome e la chiama Ora essa è oggi una dea congiunta a Quirino nel culto io Romolo figlio di Marte sono divenuto un dio mi è stato dato un nome divino Quirino ho per moglie una dea non più Ersilia la Sabina ma ora una divinità ho anche un tempio dedicato a me sul colle che a me Quirino ha preso il suo nome il Quirinale e anche un sacerdote devoto solo al mio culto si chiama come me adesso Flamen Quirinalis da questo momento in poi quanti vorranno sostenere che io non sono mai esistito in verità so che sono stati molti quanti hanno scritto scriveranno che le storie della mia nascita del mio auspicio delle mie leggi delle mie vittorie sono in realtà solo fabule fabule inventate dai poeti forse continueranno a credere che non sono mai esistito ma debbono rassegnarsi a onorarmi nel tempio che mi è stato dedicato sul mio colle divino mentre i pontefici ricordano anche la mia sposa nelle loro formule solenni la ora di Quirino e se dell'esistenza di un uomo si può dubitare nessuno può rifiutarsi di credere all'esistenza di un dio a cui è stato dedicato un tempio e che i sacerdoti della città onorano ogni anno con formule e sacrifici nelle occasioni rituali il fatum sa bene come difendersi dagli increduli grazie grazie a tutti grazie a tutti